Grazie ad un accordo sottoscritto tra l'Università d'Annunzio di Chiedi Vescara e la George Washington University degli Stati Uniti, dal 16 al 29 giugno prossimi sarà attivato un Master sul Turismo che vedrà la partecipazione di 14 studenti e 3 docenti provenienti dalla prestigiosa Università Americana. Vogliamo sicuramente vedere e evidenziare quali sono tutte le potenzialità che ancora inespresse del nostro territorio e riversare quindi sul territorio quelli che sono i risultati di questa analisi che andremo a condurre insieme ai nostri colleghi della George Washington. L'obiettivo del Master, aggiunto ancora la professoressa Consorti, è quello di analizzare punti di forza e le criticità del sistema turistico della nostra regione, al fine di predisporre un documento finale destinato agli stakeholder locali contenente raccomandazioni e consigli utili al miglioramento dell'offerta turistica. Per l'Abruzzo in che modo pensa di intervenire? Quindi questo programma va avanti da 16 anni e siamo stati in tutto il mondo a individuare differenti progetti che hanno a che fare col turismo. In Abruzzo che è una delle regioni più verdi d'Italia vogliamo sviluppare l'ecoturismo. Sentiremo subito poi il Master per vedere i risultati di questo lavoro. Non vediamo l'ora di condividere i risultati con voi, grazie. Grazie tante.